Dopo due anni esatti dal controverso blocco dei cantieri risalente a febbraio 2021, il progetto delle due torri da 80 appartamenti al porto di Pesaro sul terreno del demolito ex consorzio agrario vede sgombrato il campo da ogni ostacolo a far ripartire la costruzione dei palazzi. Ieri l'ultima matassa è stata sgrovigliata dal Tribunale di Pesaro che ha assolto con rito abbreviato tutti e tre gli imputati della società Nova Portum che all'epoca furono accusati di presunto abuso edilizio in base ad una norma attuativa del PRG del 2003 evidenziata dalla Capitaneria di Porto che impediva edificazioni incalate a Caio Duiglio di costruzioni non strettamente inerenti alle attività portuali. I costruttori avevano avuto già ragione dal ricorso al TAR recepito lo scorso 14 dicembre anche dal Consiglio Comunale di Pesaro che cancellò il pasticcio burocratico creato in gran parte dal cortocircuito interpretativo dello stesso comune fra PRG del 1990 e quello del 2003. Comune che nel 2018 aveva tra l'altro dato l'ok ai permessi di costruzione. In Tribunale la Procura aveva chiesto due mesi di arresto e 20.000 euro di ammenda ogni imputato. Ieri è invece arrivata l'assoluzione per Paolo Giorgini, Luca Ferretti e Alessandro Gurini, rispettivamente amministratore di Nova Portum, direttore dei lavori e responsabile dei cantieri. All'uscita dal Tribunale la società Nova Portum ha espresso soddisfazione per la fiducia riposta nella magistratura che le ha riconosciuto l'aver agito nel rispetto delle normative. Società che ora trova semaforo verde per poter riprendere a costruire.